Buonasera, noi qui come vedete siamo un gruppo, siamo disoccupati, gente proprio che non ce la va più. Settimana scorsa abbiamo protocollato la lettera alla sindaca tramite il comune qui a San Giovanni Infiore, provincia di Cosenza, protocollata finora, nessuno ha risposto. Noi in modo pacifico stiamo chiedendo alla sindaca almeno di aiutarci, di portarci alla regione, di proporre qualche progetto perché non ce la facciamo più da andare avanti così. Sinceramente vogliamo una risposta concreta e subito perché qui siamo da metà luglio, andiamo sopra, parliamo con chiunque però nessuna risposta. Noi chiediamo urgentemente oppure se ci dà un incontro, scende lei, parla con noi, perché noi siamo in modo pacifico. Quindi vogliamo subito, urgentemente, una risposta, gentilmente. Grazie.